Cari figli, con materno amore vi invito ad aprire i cuori alla pace, ad aprire i cuori a mio figlio, affinché nei vostri cuori canti l'amore verso mio figlio. Solo da quell'amore, infatti, nell'anima giunge la pace. Figli miei, so che avete la bontà, so che avete l'amore, un amore misericordioso. Molti miei figli, però, hanno ancora il cuore chiuso. Pensano di poter agire senza rivolgere i loro pensieri verso il Padre Celeste che illumina, verso mio figlio, che è sempre nuovamente con voi nelle Eucaristie e desidera ascoltarvi. Figli miei, perché non gli parlate? La vita di ognuno di voi è importante e preziosa, perché è un dono del Padre Celeste per l'eternità. Perciò non dimenticate mai di ringraziarlo. Parlatevi. So, figli miei, che vi è sconosciuto ciò che verrà dopo, ma, quando verrà il vostro dopo, riceverete tutte le risposte. Il mio amore materno desidera che siate pronti. Figli miei, con la vostra vita mettete nel cuore delle persone che incontrate dei buoni sentimenti, sentimenti di pace, di bontà, d'amore e di perdono. Attraverso la preghiera, ascoltate quello che vi dice mio figlio ed agite in quel modo. Vi invito nuovamente alla preghiera per i vostri pastori, per coloro che mio figlio ha chiamato. Ricordate che hanno bisogno di preghiera ed amore. Vi ringrazio.